In comprensione, 28 lingue, non ci capiamo neanche tra di noi, 500 milioni di persone che non sanno cos'è l'Europa. Cambiamola questa Europa, che diventi una comunità vera, non un'unione di banche finanziarie di spread. Il 25 di maggio non avete una penna in mano, avete una bomba atomica. Il 25 di maggio cambiamo l'Europa per cambiare l'Italia. Italiani, vinciamo voi!